Qui vi presentiamo le 5 migliori maschere LED per viso. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Maschera fototerapica, 3 colori LED LIGED Foton Maschera Viso. Con un investimento finanziario davvero basso è possibile ottenere i numerosi vantaggi del trattamento di fototerapia a LED. Emette tre diverse luci colorate con varie funzioni, per una cura totale della pelle. Favorisce la ricrescita del collagene, rende la pelle più forte e anche extra elastica, riduce al minimo le pieghe e le linee sottili. Stringe anche i pori e migliora anche la lucentezza della pelle. Il piano consiste inoltre nella custodia per lo stoccaggio e il trasporto della maschera in tutta sicurezza. Passando al numero 4. Anti-acne maschera, LED maschera luminoterapia. Il design di questa maschera differisce dai modelli tipici per fornire un'esperienza di messa in gioco specificamente confortevole, senza il rischio di annotare la pelle. Una scarica di luce rossa, gialla e blu può essere selezionata per accelerare il rinnovo del collagene, diminuire i pori, aumentare l'elasticità della pelle, per ottenere un effetto anti-invecchiamento con la riduzione delle rughe e delle linee sottili. Il colore può essere cambiato toccando il supporto quando viene presentato il segnale. L'innovativa e innovazione dello strumento integra il trattamento con la massagioterapia vibrante per aumentare il benessere maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Project Beauty LED Photon Therapy A7 Trattamento È un trattamento leggero colorato adatto per la cura della pelle di tutti i giorni. Utilizza onde luminose naturali, che vengono trasferite dall'introduzione della pelle. Raccogliendo la tonalità impegnata, aiuta a ridurre e fermare le pietre, agisce sulle aree adipose, migliora la flessibilità della pelle e riduce al minimo i pori. Funziona per combattere e anche ostacolare lo sviluppo del pigmento di melanina. Per guardare i risultati, si consiglia di scattare un'immagine prima e anche dopo ogni trattamento. Le linee guida nel pacchetto sono in inglese ma sul web puoi scoprire il manuale in italiano. Almost at the top of our list at number 2. Mincheda 7 colori facciale Bellezza pelle Rinduvanimento Maschera Bellezza viso La maschera invia luce LED in 7 colori vari, ognuno dei quali è associato a un certo effetto utile. Per soddisfare ogni esigenza di eleganza. Il rosso, ad esempio, promuove le cellule della pelle per espellere il collagene per una struttura costante e liscia, mentre l'eco-friendly riduce le linee di penalità e le pieghe delle battaglie gialle. Il viola, d'altra parte, è efficace contro l'acne, il blu migliora la pelle sensibile, il bianco opera in caso di pelle cadente e il blu aumenta il processo metabolico. E infine il numero 1 della nostra lista. Velili, maschera per terapia della luce. Grazie al trattamento fotodinamico, la maschera anti-invecchiamento rinnoverà sicuramente l'aspetto della pelle del viso e del collo in breve tempo. La luce rossa aumenta il flusso sanguigno e la produzione di collagene. La luce blu ucide i germi e anche le aziende, migliora la pigmentazione, le linee sottili e riduce il grasso. Con la luce gialla leviga e rivitalizza la pelle, mentre con quella viola agisce efficacemente sull'acne e sui segni. La luce azzurra è rilassante e può aiutare con reazioni allergiche. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Grazie a tutti.